Eh sì, allora, quella che vedete alle mie spalle è la BYD SEAL, lo so, in italiano vuol dire foca. Non è il primo contatto con BYD, produttore cinese di auto elettriche che è l'acronimo di Build Your Dreams, che provo perché a giugno ho provato l'atto 3. Adesso sono volato fino a Milano per provare sia la SEAL che la Dolphin, della quale però vi parlerò in un altro video. Però adesso concentriamoci su di lei. E lo so, lo so, basta guardarla un po' dall'esterno per capire innanzitutto quanto le linee siano filanti, ma anche per riuscire a capire quale auto ha un po' nel mirino. Diciamo, non vi spoilerò, anzi sì, ve lo dico subito, dai, la Tesla Model 3. Allora, BYD è molto particolare. Di fatto vedete, andiamo subito all'anteriore, la completa assenza da buona auto elettrica, ma c'è la completa assenza della griglia anteriore. Quindi non è solo la parte di profilo, qui molto filante, di tutto il cofano anteriore, che ovviamente sotto nasconde un bagagliaio. Quindi è, diciamo, uno spazio agibile per eventuali bagagli. Il design è estremamente filante, molto semplice ma ricercato. Con gruppi ottici a LED, vedete queste luci di posizione nella parte bassa, così come nella parte inferiore. Sono le uniche feritoie che ci sono sul muso di quest'auto, perché come vedete, ve la faccio vedere, anche diretta qui, di piatto anteriore, è un design quasi da auto sportiva, per questo segmento di, di una macchina lunga 4,80 metri. Neanche poco, con un passo, quindi ricordiamoci, passo lunghezza da centro ruota a centro ruota, di 2,92 metri. Questo è il grande vantaggio delle auto elettriche che ti permettono di avere poi un grande spazio per gli interni e quindi per tutti i passeggeri. Spazio per le gambe che non fa mai male, ma allo stesso tempo anche lo spazio per il bagagliaio. Dietro fari molto ricercati, vedete questa è una striscia unica di LED illuminata da lato a lato, d'altronde adesso va un po' di moda avere questa sorta di linea continua rossa da lato a lato, mentre invece nella parte bassa, adesso non so se si vede direttamente, ma c'è la parte di estrattore. È curioso vedere come con tutte le auto elettriche, e BVD ha molto, molto, diciamo, estremizzato il senso dell'efficienza aerodinamica, con le auto elettriche ovviamente si cercano delle soluzioni che normalmente fino a qualche anno fa non sarebbero state immaginabili, ma forse neanche tanto concepibili sulle auto termiche, se non per particolari segmenti. Qui invece con le auto elettriche, visto che si deve andare a spillare anche qualsiasi chilometro di autonomia dalla batteria, si cerca di ottimizzare l'efficienza aerodinamica in tutti i modi, tanto è vero che BVD con questa seal, con questa foca, ha totalizzato un CX complessivo dell'auto di 0,219. Ragazzi, stiamo parlando di un CX eccezionale, raggiunto da una, grazie anzi, a una serie di accorgimenti. Il primo, quello che vi facevo vedere prima, tutta la parte anteriore senza griglia. Poi vediamo i cerchi che sono da 19 pollici e sono chiusi, questi aiutano in tutta la parte di gestione dei vortici vicino alla ruota, le minigonne qui sono profilate per gestire un po' i flussi, le maniglie sono a scomparsa e anche qui un grande must per quanto riguarda le auto elettriche e in generale anche le auto ricercate. Voglio farvi vedere, l'ho appena vista, anche la scritta BYD direttamente sulla maniglia. Questo è un particolare molto ricercato, molto carino, ma d'altronde BYD è anche molto attento ai dettagli e quello che vi dicevo prima, l'estrattore nella parte posteriore. La linea del cofano, la linea anzi del tetto, è molto discendente, come vedete riesce a fendere molto bene l'aria e a chiudere nella parte posteriore senza generare troppi vortici perché non ci sono spoiler, non ci sono degli spigoli vivi, non ci sono delle appendici che possano disturbare il flusso che scende dalla parte posteriore, quindi dall'1.8. Allora, sono passato adesso all'interno di questa BYD seal. Come vedete, lo spazio interno è abbondante. Riesco a stare seduto, le gambe molto stese in avanti, ma d'altronde questo è quello che vi dicevo sul fatto di avere un passo da 2,92 metri. Poi, rispetto all'atto 3, il display della strumentazione è leggermente cresciuto. Le informazioni di guida sono tutte su questa parte, ma ritorna ancora una volta questo display da oltre 15 pollici nella parte centrale, che così come l'atto 3 è una sorta di ormai segno distintivo per quanto riguarda BYD, questo può ruotare, quindi può essere orientato sia in orizzontale che in verticale. Questa la trovo una mandracata per il semplice fatto che quando cominciamo ad allungare, ad ingrandire, insomma, i display, averlo in orizzontale, dovendolo raggiungere magari dal posto di guida in un posto molto lontano, per esempio nell'angolo in alto a destra, comincia a diventare problematico. Sicuramente un display verticale può dare un miglior feedback da questo punto di vista, seppur nella parte superiore, ecco, io sono nel posto di guida, possiamo vedere che potrebbe tendere a coprire in parte la visuale, però questo è un punto interrogativo rispetto anche a come ci si regola la posizione di guida. Io lo rimetto in posizione orizzontale perché è veramente figo da vedere, anche perché, diciamo, il display, il software risponde anche molto bene al tocco dell'e-digital, anche le transizioni sono molto naturali, quindi il software è anche molto pronto dal punto di vista del feedback tattile. Riesci a fare un po' quello che vuoi, consideriamo che c'è poi la connettività con Android Auto ed Apple CarPlay, come d'altronde possiamo vedere anche qui, e da qui poi si vanno a vedere quelle che sono le telecamere dell'auto ormai praticamente a 360 gradi, oppure a comandare l'impianto audio da Eneudio che, diciamo, è stato è stato studiato ad hoc per le forme di questa macchina. Sul tunnel centrale vi volevo far vedere il selettore di guida che è una semplice unghia, ovviamente non ci sono, da buona elettrica, non ci sono delle marce vere e proprie, ma siamo in presenza comunque semplicemente della posizione per andare avanti per il folle, diciamo, il neutro e per la retromarcia, poi chiaramente quello è tutto un monomarcia. Ci sono qui i tasti per quanto riguarda le varie impostazioni, come ad esempio le modalità di guida o comunque le superfici a bassa aderenza, qui abbiamo la rotella per i driving mode che possono essere, ve lo faccio vedere, sono eco, normal e sport, vedete adesso è normal, poi si può passare a sport oppure si può decidere di tornare alla eco. Quindi anche qui, così come l'atto 3, il blocco centrale nel tunnel qui è, diciamo, il centro di comando, o meglio, tutti i tasti che sono sul tunnel centrale sono raggruppati in questa zona qui. Grandissimo, ma veramente enorme pad per la ricarica e induzione doppio. Questa è una cosa da non sottovalutare perché magari, ecco, solitamente i pad da induzione per la ricarica e induzione sono singoli, quindi uno va a mettere esclusivamente il telefono ad esempio del conducente, qui invece abbiamo la possibilità di mettere anche il telefono del passeggero senza alcun problema. Nella parte centrale qui abbiamo un poggio a braccio, tra l'altro qui con l'NFC, questo permette anche di interfacciare meglio il telefono e poi al solito un vano nella parte bassa. Avanti ci sono due porta bibite, ma voglio farvi vedere in assoluto anche il design dei sedili. Sedili tra l'altro con poggiatesto integrato, come lo vedete, con la scritta BWD qui, che ricordano un po' da un lato i muscoli, ok? Avete presente, no, le fibre, le fibre muscolari, no, anche di quando sui libri andavamo a studiare, vedevamo l'immagine del muscolo, ad esempio del bicipite, ma allo stesso tempo anche tutta la parte di sinuosità dovuta alle creature marine, al mare. Ricordiamoci che loro hanno chiamato questa, quest'auto Silfoca proprio per ricordare anche la sinuosità di questo animale. Andiamoci a vedere infine la parte di bagagliaio, c'è il tastino qui per andarlo ad aprire in modo elettroattuato e abbiamo il bagagliaio posteriore che è da 400 litri. Assolutamente non male per un'auto del genere, ma che, come vi dicevo prima, adesso lo possiamo tranquillamente richiudere andando a premere il tastino qui, ma che, come vi dicevo prima, è supportato anche da quello che viene chiamato Frank. Quindi adesso andiamo ad aprire quello che è il bagagliaio anteriore, quindi qui premendo due volte, provo, provo ad andarlo ad aprire assieme a voi. È andato, dopo il supporto da parte della regia, ed ecco quindi il Frank sono ulteriori 53 litri a disposizione e come vedete, ve lo faccio vedere in una sorta di panoramica, come vedete questo è un altro vano nel quale possiamo andare a mettere magari qualche zaino oppure qualche borsa morbida che riesce comunque a essere stivata in questa forma che è comunque abbastanza regolare, abbastanza profondo, quindi non dovrebbe creare grossi problemi. Lo andiamo a richiudere, quindi anche qui che poi tra l'altro va a simulare un po' quello che il coprimotore di un motore termico, addirittura sembra tipo un V6 o una cosa del genere, potrebbe ricordare ai appassionati, diciamo ai petrolhead, agli appassionati dei motori la combustione interna potrebbe ricordare il coprimotore di un V6, però chiudiamo il cofano anteriore e abbiamo visto anche, eccoci qui, anche la parte di Frank e non resta che guidarla direttamente su strada. Ed ecco allora che sono passato finalmente alla guida di questa SIL, di questa foca. Allora ci sono due possibili motorizzazioni, la versione meno potente è quella con motore singolo posteriore, sono 308 cavalli e 360 newton per metro di coppia, ma quella che sto provando è la Excellence, quindi l'allestimento top di gamma con doppio motore, trazione integrale, motore avanti, motore dietro, gestiscono tutte e quattro le ruote e abbiamo 523 cavalli e 670 newton per metro di coppia. E vi dirò una cosa curiosa, solitamente dietro il badge dell'auto siamo abituati a vedere due numeri che sono quelli della cilindrata, ovviamente con un motore elettrico la cilindrata non c'è, ma dietro a questa SIL c'è scritto 3.8 S, in realtà è una sorta di autocelebrazione per la quale loro specificano che ci vogliono 3.8 secondi per passare da 0 a 100 chilometri orari. In entrambi i casi 82.5 kilowattora di batteria che secondo il ciclo WLTP garantiscono 570 chilometri di autonomia nella versione meno potente, mentre invece in quella che sto provando sono 520. Ovviamente questo dipende dall'utilizzo che se ne fa, dal contesto anzi, perché se doveste guidarla esclusivamente in città questa autonomia potrebbe superare di slancio i 600 chilometri. Il problema è che è una macchina da 4,80 metri che guidata in città magari non è comodissima, ma semplicemente per una questione di parcheggio, perché per tutto il resto è confortevole, come tutte le auto elettriche, come tutte le BWD. Ecco, adesso io sono in città piena, l'isolamento rispetto ai rumori esterni è massiccio, non si sente pervenire nulla, non si sente il motore, ma c'è questo sistema Avas che è costantemente attivo fino ai 30 chilometri orari. Questo sistema permette di farsi percepire, farsi sentire dai pedoni ed è un sistema di sicurezza obbligatorio sulle auto elettriche fino ai 30 chilometri orari. Ed è una musichetta che ti entra nella testa, non se ne esce più. Quindi diciamo che è impegnativa anche, tra virgolette, da ascoltare, da seguire. Le prime impressioni, perché ricordiamoci che queste sono delle prime impressioni, questa è la prima volta che guido la SIL in occasione di questo evento di lancio nazionale di BWD, chiaramente nel mirino c'è Tesla Model 3. Non dobbiamo farne di fatto un segreto. Questa SIL vuole scardinare quello che ormai è una sorta di predominio da parte di Tesla con la Model 3. Devo essere sincero, in termini di estetica, mi piace di più rispetto alla Tesla Model 3. Secondo me è anche molto più affilata, molto più personale, ha un carattere molto più bello anche in termini di linee estetiche, geometriche e così via. Alla guida si comincia a percepire fin da subito una presenza del volante molto buona. È molto largo, la corona del volante è, diciamo, importante. Quindi quando andate a mettere le mani alle 9 e un quarto, posizione corretta di guida, impugnate un volante importante. Sul tunnel centrale ci sono le modalità di guida impostabili. Considerate che sulla versione che sto provando, che ripeto è la Excellence, la top di gamma, ci sono degli ammortizzatori adattivi. Adesso sono passato su un pavé e nonostante la lunghezza della macchina, il peso e comunque l'importanza, anche le inerzie in movimento, l'isolamento dell'abitacolo da quelle che sono state le asperità che ho potuto incontrare sotto alle ruote, è stato ottimo. Nel senso che le sospensioni hanno lavorato bene, d'altronde lavorano su frequenze variabili quando beccano delle stimolazioni, diciamo, a frequenza più alta, si tendono ad ammorbidire, mentre invece quando siamo su una strada piatta tendono invece ad essere meno stimolate da questo punto di vista e di conseguenza a irrigidirsi. Questo anche per andare a mantenere un po' la stabilità nel caso in cui si dovessero affrontare, ecco, per esempio, dei curvoni in percorrenza, questo diciamo tanto per dirne una. Ve lo devo proprio dire che schiacciare a fondo l'acceleratore è impegnativo, tra virgolette, cioè vi mettete lì, se date tutto gas, la risposta è immediata, quasi come se non ci fosse un filtro e vi trovate, in men che non si dica, a velocità tendenzialmente anche fuori limite, fuori codice, quindi attenzione su questa cosa. Non ve ne accorgete nemmeno perché un po' tutta la dinamica della macchina vi fa percepire una stabilità molto elevata, di conseguenza non riuscite ad avere un'idea, un'immagine chiara della velocità alla quale state avanzando. Al di là della suite di controlli elettronici estremamente completa, siamo sul livello 2, 2+, quindi guida autonoma di livello 2, 2+, c'è anche un sistema che si chiama HITAC, che è una sorta di evoluzione del classico sistema ISP, il controllo elettronico di stabilità, perché dovete capire che per quanto riguarda le auto elettriche non solo si può togliere coppia a una ruota per ristabilizzare una macchina, nel caso del sistema HITAC addirittura si può dare una coppia negativa, quindi in realtà si può frenare ancora di più la macchina, questo è importante ed ovviamente è gestibile da una macchina elettrica, da un motore elettrico perché si può decidere il verso di rotazione e la coppia da dare, corrispettiva, corrispondente. Concettualmente lo spazio non manca, l'autonomia è quella giusta anche per fare dei viaggi, vi permette di divertirvi alla guida, vi attacca il sedile, non rolla troppo, quindi non è cedevole in quanto a sospensioni, almeno la excellence, per la design, lascio il punto interrogativo perché la design è l'entry level, quindi quella con motore singolo che magari può non avere per esempio le sospensioni adattive, BAM, porca miseria, ragazzi è forte forte, l'elettrico da questo punto di vista, non so, potrei fare una reaction con la faccia che ho fatto. Per quanto riguarda invece la ricarica, ovviamente 82.5 kWh sono una batteria, sono tanti per una batteria, quindi anche ricaricarli al 100% è impegnativo, ma le prestazioni in termini di ricarica sono 11 kW per quanto riguarda la ricarica in corrente alternata e onesto potrebbero fare di meglio, ci sono alcuni competitor che arrivano fino a 22 che in alternata non è affatto male perché è quella ricarica che potreste decidere di utilizzare quando magari lasciate la macchina e andate al lavoro. Invece per quanto riguarda la ricarica veloce in DC con la presa CCS Combo arriviamo a 150 kW, quindi questo è assolutamente nella media del mercato e vi permette alla fine in una mezz'ora, 40 minuti di avere un'ottima percentuale di carica pur partendo magari da un livello anche piuttosto basso che possa essere il canonico 20%. Se le dovessi trovare una sorta di critica è un po' troppo filtrata in alcuni punti di vista. Ho provato prima anche a gestire un po' lo sterzo, si sente un carico volante ma non si sente fisicamente, tattilmente, sotto alle dita un link tra virgolette diretto con il volante così come anche le sospensioni in alcuni casi magari sulla ruvidità, sulla rigidità ma questa è una mia deformazione personale perché io preferisco una guida molto tattile, non ti fanno percepire alcune cose. Tra l'altro non ci sono neanche dei grossissimi punti morti al centro del volante, risponde bene l'avantreno anche nei sinistra-destra. Per quanto riguarda i prezzi si parte da 46.890 euro per la versione a motore singolo, mentre invece per la versione che sto provando, la Excellence, si sale a 49.390 euro, entrambe IVA inclusa e messa su strada inclusa. Quindi questa è almeno l'offerta di lancio per il mercato italiano della BY Diesel. Detto questo, fatemi sapere che ne pensate, anche perché è un'auto che finalmente potrebbe mettere veramente i bastoni nelle ruote alla Model 3, anche se poi le ruote sono piene quindi magari non ci può entrare, ma qua continuiamo con le battute squallide. Fatemi sapere che ne pensate, lasciatemi un like al video, lasciatemi un commento, ma soprattutto ricordate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!